Musica Cari telespettatori di Fanu TV, oggi parleremo di uno degli eventi che caratterizzano l'estate fanese e che ormai da tanti anni si tiene a metà di agosto. Sto parlando della Birra d'Augusto, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica a Flaminia. Do il benvenuto al Presidente Giacomo Grandicelli. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Dunque l'evento che è dedicato agli amanti del lupolo quest'anno tornerà alla corte di Cesare Ottaviano perché inizialmente pensavate di spostare questo evento in Sassonia ma per motivi logistici. Sì, diciamo che tutto è nato dal fatto che, come magari già sanno tutti quanti, ci devono essere i lavori di ristrutturazione per quanto riguarda il pincio e quindi si pensavano di iniziarli prima praticamente dell'estate. Invece li hanno posticipati, ma non tanto per favorire chiaramente la festa della birra, proprio per una questione diciamo organizzativa e di conseguenza siamo riusciti a mantenere la manifestazione direttamente al pincio. Penso anche per soddisfazione di molte persone che insomma ho visto che non avevano preso anche sui social molto bene il cambio di location. Quindi ritorniamo dove è giusto che sia anche perché birra d'augusto abbiamo augusto. Esatto, è proprio un luogo caratteristico dell'evento. È un evento appunto patrocinato anche dal Comune di Fano, quindi che vi supporta ed è stato inserito nel calendario 20 Destinazione Fano. Sì sì, noi infatti abbiamo la fortuna di avere sempre avuto il patrocino del Comune di Fano, questo ci permette comunque anche di alleggerirci tra virgolette proprio anche di costi per quanto riguarda la realizzazione dell'evento, perché comunque è un evento che comunque smuove tante cose, al di là del fatto che magari nel momento in cui uno viene a vedere la manifestazione chiaramente la vede tutta fatta bene, tranquilla, però in realtà dietro c'è una macchina che lavora da diverso tempo e da diversi mesi. Ricordiamo anche le date, le vediamo alle sue spalle, 14, 15, 16, 17 e 18, per cui 5 giornate in cui la zona del Pincio si trasformerà in una piccola Oktoberfest. Sì, allora abbiamo, la festa è sempre stata di tre giorni e l'anno scorso abbiamo voluto sperimentare cinque giorni, è stata più diciamo una necessità che una convenienza, mettiamola così, perché volevamo, soprattutto anche il Comune aveva piacere che la festa prendesse il giorno di Ferragosto. Noi avevamo necessità di arrivare comunque nel weekend e quindi diciamo l'anno scorso siamo partiti facendola di cinque giorni. Abbiamo visto che, chiaramente tempo permettendo, anzi meteo permettendo per essere più precisi, la manifestazione è riuscita molto molto bene, tutti i cinque giorni abbiamo avuto tantissima gente e quindi quest'anno abbiamo voluto riprovare quello che l'anno scorso insomma è riuscito bene, quindi speriamo che non sia un passo falso che invece sia una cosa fatta ben bene. Un evento che piace dunque ma che punta anche sulla qualità e sulla ricerca delle materie prime. Sì, allora sicuramente a differenza magari di tante altre feste che vengono organizzate in giro noi abbiamo sempre puntato sulla qualità del prodotto. Chiaramente le birre sono rigorosamente artigianali e non solo le birre perché comunque ci sono anche stand gastronomici che sono, che hanno comunque prodotti di ottima qualità. Quindi diciamo il nostro intento non è solo diciamo mettere due stand e accontentare diciamo gli amanti della birra. Il nostro intento è quello comunque di dare anche un prodotto di qualità perché la festa deve essere una cosa particolare, non può essere intervista come la festa della birra e basta. C'è una grande novità per questa edizione, la svegliamo subito. Sì, no, la svegliamo subito perché è una cosa che comunque mi fa molto contento in quanto come noi ben sappiamo ci sono molte persone che sono intolleranti al glutine e allora grazie anche ad una mia amica che diciamo quasi per caso mi ha detto guarda ti do una mano, ti trovo io, la gente che può venire eventualmente alla festa della birra a fare uno stand, siamo riusciti a fare uno stand per C10 e questo chiaramente ci permette un attimino anche di venire incontro a tutte quelle persone che magari sarebbero venute molto volentieri alla manifestazione perché come ripeto non ci sono soltanto birra e mangiare ma ci sono tante altre cose quindi uno può passare tranquillamente una serata piacevole. Dare questa possibilità a queste persone sicuramente dà un servizio in più perché appunto ripeto la festa della birra deve essere aperta per tutti siccome la cosa bella è che in questa manifestazione ci sono anche molte famiglie che è una cosa che magari può sembrare strano però effettivamente è perché comunque è una manifestazione molto tranquilla alla portata di tutti. Esatto diciamo non è allo sballo. Esatto perché magari uno può pensare male per questa cosa invece non è assolutamente così e poter allargare diciamo la fascia di persone che possono partecipare all'evento per noi secondo me è una cosa fondamentale e diamo anche un servizio alla comunità. Certo, avevate avuto anche delle richieste in tal senso negli anni precedenti? Diciamo che prevalentemente da mie amicizie perché ho diversi amici che hanno purtroppo questo tipo di problema. Quindi conosci bene? Sì, conosco abbastanza bene queste problematiche quindi diciamo sono contento per questa cosa e speriamo che ci sia una bella risposta. Vogliamo citare anche tutti i birrifici che saranno presenti? Quanti saranno? Allora molto probabilmente saranno 12. Dico molto probabilmente perché c'è proprio una new entry che mi dovrebbe entrare ieri quindi è proprio una cosa fresca fresca e diciamo quelli più importanti che sono vabbè la birra La Granda, abbiamo birra San Biagio, birrificio Yalkis, birrificio 6100 Yalkis e 6100 sono due birrifici peraltro di Pesaro, poi abbiamo la Collesi, famosissima Collesi poi abbiamo birrificio dei Castelli, Fratelli Trami, abbiamo Consolare 72, Bir & Bird e poi abbiamo il Renton che anche loro sono di casa quindi sono fanesi quindi abbiamo anche qualcosa, giocano in casa. Vorrei specificare anche che lo stand dedicato ai prodotti senza glutine sarà gestito da un artigiano di Pesaro il 14 e il 15 agosto e da un altro artigiano di Senigallia il 16, 17 e 18. Entrambi proporranno dei prodotti non confezionati ma freschi e per la maggior parte realizzati proprio al momento tra cui un'ottima birra artigianale che anche noi insomma siamo curiosi davvero di assaggiare e di provare. Oltre a questo quindi oltre a birra stand gastronomici ci sarà anche della buona musica. Sì, allora noi come ogni anno faremo dei concerti, quest'anno chiaramente siamo riusciti a trovare dal mio punto di vista anche dei gruppi molto molto interessanti in quanto sono convinto che la gente poi apprezzerà tantissimo. Partiremo il 14 di agosto con i Remind che sono una band che è un tributo per i Simple Minds. Poi dopo abbiamo per quanto riguarda il giorno di Ferragosto abbiamo i Pesoforma e i Lucio Drum. I Lucio Drum sono anzi anche loro una tributo band per i Litfiba. Poi abbiamo i Blue Byte che saranno il giovedì. Il venerdì giocheremo anche lì in casa con la Borghetti Bugaron Band che poi quest'anno ha festeggiato i 30 anni e avremo modo appunto di ospitarli. Peraltro ci sono stato dietro parecchio, mi sono mosso con largo anticipo perché loro sono ampiamente impegnati durante il periodo estivo. E anche loro giocano in casa. E anche loro giocano in casa giustamente. E poi abbiamo i Crotalo Company che chiuderanno una settimana con il giorno di sabato. Per quanto riguarda invece il cibo? Il cibo chiaramente, vabbè, sarò molto generico perché dirò i prodotti che vengono trattati ma praticamente li conoscono quasi tutti perché sono anni che vengono alla manifestazione e questo mi fa capire che la manifestazione funziona perché quando ti vengono quasi sempre gli stessi tendisti vuol dire uno che sono rimasti soddisfatti e che comunque apprezzano la manifestazione. Questa è la cosa più importante. Comunque, vabbè, chiaramente abbiamo gli arrosticini abruzzesi, abbiamo la carne alla braccia toscana che molti conoscono perché è uno degli stand più affollati. Poi dopo abbiamo l'hamburgeria, abbiamo la frittoria, la piadineria e abbiamo le bombette pugliesi che è una new entry che c'era l'anno scorso e come new entry di quest'anno abbiamo lo gnocco fritto di Modena. Quindi vediamo un attimino di accontentare un po' tutti i gusti. Poi quest'anno col fatto che abbiamo anche lo stand per Cilia ci sicuramente accontenteremo tutti quanti. Insomma tante specialità e tipicità gastronomiche. A che ora apriranno gli stand? Allora gli stand apriranno alle ore 18. Tranquillizzo chiaramente il vicinato del pincio che comunque i gruppi non andranno oltre la mezzanotte, questo ci tengo a precisarlo. E anche per la giornata del sabato? Sì, anche per la giornata del sabato non penso che sforeremo, nel senso che mi rendo conto che è un po' limitativo per chi magari vuole un attimino più di animazione per quanto riguarda queste serate. Se sforeremo, sforeremo di un quarto d'ora e venti minuti. Quindi non andremo a rovinare la serata che abita intorno al pincio, quello sicuramente. Questa è una cosa che abbiamo sempre cercato di fare perché mi rendo conto che bisogna diciamo seguire un po' le esigenze di tutti. Mi rendo conto che la gente che viene lì chiaramente vuole un po' di animazione, quindi ci sta che comunque un po' di musica ad alto volume ci possa essere. Dall'altra mi metto anche nei panni di chi magari lì intorno che avere musica fino alle 2 di 3 di notte non è proprio una cosa compatibile. magari, giusto se il giorno di ferragosto e il giorno di sabato si può chiudere un attimino un occhio allungando di un quarto d'ora, massimo una mezz'oretta. Per la gioia dei giovani, le famiglie. Esatto, almeno evitiamo anche che i ragazzi vadano fuori, rimangono comunque fano e magari approfittano per venire i ciappiedi anziché utilizzare la macchina che quello magari potrebbe essere una cosa utile e dilettevole allo stesso tempo. La manifestazione è arrivata all'ottava edizione. Esattamente. Quindi sono tanti anni di lavoro, ma questo significa che appunto come dicevamo all'inizio piace. Sì, io ti dico la manifestazione non l'abbiamo inventata noi, diamo in merito a Cesare, non in questo caso a Augusto, ma dobbiamo dar merito alla confraternita della Birra che era diciamo la persona di riferimento alla Ginevra Morosini, che lei ha inventato questa manifestazione, poi dopo dal quarto anno in poi, quindi noi siamo il quinto anno quest'anno che lo organizziamo, abbiamo preso in mano noi la manifestazione e abbiamo cercato un attimino di fare dei piccoli cambiamenti, cambiamenti che ci hanno permesso comunque di farla crescere. E questo insomma ci fa piacere perché uno sicuramente è una manifestazione che piace a Fano, non solo per il Fanese perché comunque vediamo tantissimi turisti che vengono, quindi comunque diamo anche un servizio ai nostri albergatori che chiaramente possono avere uno strumento in più per combattere la concorrenza delle città limitrofe e allo stesso tempo comunque siamo riusciti a mettere dei prodotti di qualità che secondo me è il punto forte della manifestazione. Al di là di tutto quello che ne viene fuori, perché comunque ripeto la serata è una serata molto piacevole, quindi passa bene, non è invasiva e insomma la gente sicuramente si diverte, però quando poi c'è anche la quality di mezzo sicuramente è un valore aggiunto. Dunque birre artigianali dall'Italia e dal mondo, musica, buon cibo, tante caratteristiche di questa manifestazione che ricordiamo si svolgerà dal 14 al 18 di agosto al Pincio di Fano che vi aspetta. Esattamente, poi chiaramente concludo perché chiaramente i concerti incominceranno dalle ore 21 e chiaramente noi dalle 18 alle 21 non vi lasceremo diciamo senza musica e quindi ci saranno anche delle dirette con le radio locali, quindi abbiamo cercato di coinvolgere anche loro in maniera tale da dare un prodotto, mi permetto di dire, fanese. Fanese che riesce appunto a intrattenere tutti gli ospiti. Esattamente. Birra ad Augusto, grazie al presidente dell'Associazione Sportiva di Alettantistica a Flaminia, Giacomo Grandicelli. Grazie a voi per questa opportunità e non mi rimane altro che vi dire vi aspettiamo dal 14 di agosto al Pincio di Fano. Grazie ancora Giacomo. Grazie a voi. Un saluto anche a tutti i nostri telespettatori di Fano TV. Buon proseguimento di serata, arrivederci.